...dolore delle pezzi, oppure le colonne, oppure come punto qui, o la cabezza, o l'influenza da tutto il tuo corpo e il riflesso qui, a pezzi. Questo punto che sto tocando è come un massaggio di riazza, crea una riazza dentro del tuo corpo, cura il tuo corpo. Questo è il primo di riazza, tutto il tuo corpo riazza, accetta un effetto, ma quando ho fatto, questo non crea un effetto buono. Questo è il tuo corpo, sto relazando bene. Relaça, e poi relaça qui come crea la tua mano, diventa quente, transmette, questo è il tuo calor nel tuo corpo. E poi il primo punto di cura, il principale è la colonne, la colonne è crea un effetto. La colonne, la prima punto, prima massaggio, la seconda, come si chiama qui, quella parte qui, la curva di pezzi. E poi, la seconda, il dottore tocca qui, un punto molto sensibile, per tirare qui, fino alla colonne, a toccare qui, qualche volta, senti anche qui, la cabeça. Il dottore? Il dottore? Il dottore. Crea una riazza dentro del tuo corpo, da tutto, dal punto qui fino al punto... Il dottore. Il dottore. Il dottore. Poi, qui. Il dottore. Se sente che è molto dolore, io tocca per riazza nel tuo corpo a resta mangiare la posizione di un altro ditto. Si sente male, io devo dire che sta attrappare un effetto buon... Quando dottore? Doi molto. Doi molto. Il corpo sta creando una reazione. Reagire. Corriere nel mio portugueso. Non è così? Non è così reagire? Senti? Sì, sì, è così. E poi, cada volta cambia un poco. Questo amazone deve essere fatta. Non c'è, non c'è. Non c'è. C'è questo? Oh, sì. Oh, sì. Oh, sì. Vai, sì. Non c'è questo? Non c'è questo? Doi. Doi, sì? Doi. C'è questo? Non c'è questo? Non tanto come oggi. Ah, ok. Non tanto come oggi. Sì? Non, perché... Questo? 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 È tutto questo qui? Oh! Sì! 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 oggi questo video